Tenuta di Santa Lucia è una dimora di charme immersa in uno splendido giardino, ideale per celebrare il ricevimento del vostro matrimonio. La struttura offre un rigoglioso parco, ricco di fiori e piante, e arricchito da una meravigliosa piscina. La presenza di una terrazza e di tenso strutture idonee per banchetti all'esterno durante le più belle giornate estive vi daranno la possibilità di allestire un evento da sogno che renderà estremamente elegante e raffinato il giorno delle vostre nozze. La cucina vi offrirà piatti tipici della cucina tradizionale, ai quali verranno aggiunti elementi creativi in grado di conferire gusto e sapore a ogni proposta. I menù verranno realizzati utilizzando materie prime prodotte in azienda, perfetti per insaporire con gusti delicati e profumi invitanti ogni piatto. I vostri ospiti vivranno un'esperienza culinaria unica nel suo genere, che non scorderanno mai. I vostri ospiti vivranno un'esperienza culinaria 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 un'